In questi giorni, inoltre di attivazione totale di tutte le sei linee, ci prendiamo appunto dei momenti per verificare, anche se sia il caso, di andare a dedicare delle fasce di orari dedicate per utenti senza appuntamento. Insomma, si fa il possibile. Accogliamo tutti, assecondiamo ogni richiesta, ma la mole di impegni è gigantesca e non ci piace promettere miracoli. Suona così, in estrema sintesi, la replica di SST Valleolona, le polemiche di chi ha fatto code, atteso ore prima di potersi sottoporre al sospirato tampone nell'ex casermone di Gallarate. Sintesi della sintesi, chi è prenotato viaggia in prima classe, chi non lo è aspetta. Più di così non si può. Effettivamente si sono verificate delle code, che sono in parte dovute al fatto che da ieri abbiamo attivato tre linee, ma a regime già oggi ne andremo ad attivare sei, quindi per una capacità massima di tamponi che può arrivare fino a 1500 tamponi al giorno. Ed effettivamente le code sono dovute al fatto che anche ieri c'erano dei cittadini che si sono presentati senza appuntamento. Abbiamo potenziato anche un personale che si dedica all'accettazione, quindi gli utenti e i cittadini che verranno già con un appuntamento, seguiranno in maniera molto veloce tutto il flusso, quindi tutto il percorso per eseguire il tampone. Gli altri che sono senza appuntamento verranno comunque presi in carico e si cercherà di capire in qualche modo come poter intanto fare un'accettazione per garantire comunque l'esecuzione del tampone. In effetti rispetto a quello che è il programmato, quindi quelli che sono i numeri che ci vengono comunicati da ATS su quelli che sono i pronotati della giornata, tutti quelli che accedono senza un appuntamento ovviamente possono verificare qualche piccola cuda. Però abbiamo implementato le linee, abbiamo implementato il personale in accettazione per ovviare a questa criticità, per garantire un flusso veloce e per garantire l'esecuzione del tampone a tutti quelli che arrivano. E mentre la polizia locale fa di tutto per snellire le code che si aggiungono a un traffico già di per sé sostenuto, a scanso di equivoci ricordiamo che al centro di via Milano accedono per via prioritaria i cittadini sintomatici muniti di prescrizione medica, i cittadini in via di guarigione del Covid con provvedimento di isolamento fornito da ATS e i cittadini rientrano dall'estero con prenotazione sempre a cura di ATS.